La metà dei giovani sono disoccupati, specie nei paesi come Italia, Spagna e Grecia. Non si può più vivere così. E avere un'alternativa conjunta per la politica di austerità, per i ricordi, eccetera, eccetera, che sono più o meno uguali in casi tutti i paesi. Sì che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede. Riescono a far denaro sul disastro che loro stessi hanno creato. La morale della tavola è colpevoli, premiati, innocenti, puniti. L'economia ha certamente le sue leggi, i suoi saperi, ma se non servono a migliorare le condizioni di vita delle persone, sono leggi insufficienti, perché questa economia nel momento difficile di fatto non ha aiutato le fasce più fragili, che sono quelle che stanno facendo ancora di più fatica. Convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti,